Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Brava, brava Ricordiamo domani I quarti di finale femminile Inizio gare 8 e 30 Quarti di finale maschile Inizio gare ore 10 Brava, brava Brava, brava Ari, dammi Vai, vai ragazze Inizio gare ore 10 e 30 Inizio gare ore 10 e 30 Brava, brava Dai ragazze Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, Ari. Andiamo, andiamo. 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 Andiamo.